E ciao a tutti ragazzi, sono Nico Raspo, benvenuti in un nuovissimo video, oggi siamo con Fortnite Come vedete ho acquistato il pass battaglia e sono a livello... andiamo a vedere a che livello Sono a livello 15, ho sbloccato Thor, che a me Thor piace tantissimo, vabbè a parte che è a livello 1 Comunque non perdiamoci in cracker, andiamo a fare una bella partita Andiamo in singolo, andiamo a fare una bella partita ragazzi Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel like E ragazzi supportatemi sempre, se i miei video vi piacciono, ovviamente scrivetemi nei commenti E niente ragazzi, quando faccio i video, se anche voi volete giocare con me, scrivetemelo nei commenti, come sempre E mi raccomando, dobbiamo arrivare a più like possibili, massimo 10 like dobbiamo arrivare ragazzi Abbiamo 30 iscritti, però siamo arrivati a 27, io non so come mai Però vabbè ragazzi, fa lo stesso Ok ci siamo, siamo in partita, allora andiamo, dove andiamo? Andiamo, andiamo, andiamo Corso, commercio, lago Dove andiamo ragazzi? Andiamo a sabbia A sabbia andiamo dai Ringraziamo l'autista Tututututututututututututu Allora ragazzi, scrivetemi anche nei commenti Se questa mappa vi piace Anzi ragazzi Non se vi piace Se questa Sision vi piace Ragazzi Se questa Sision vi piace Lasciate un bel like E scrivetemelo nei commenti Allora Adesso andiamo A sabbie Sempre se ci arriviamo a sabbie Perché non so se ci arriviamo ragazzi Ma comunque penso di sì Andiamo qua sotto Un po' lontanicchia Però c'è gente ragazzi A noi l'importante Di quello che ci interessa È la gente Perché noi vogliamo Tanta ma tanta gente ragazzi Sto posto io l'adoro È il mio posto preferito ragazzi Ok C'è una persona Solo una Ho appena detto che c'è tanta gente Ce n'è solo una Vabbè ragazzi Facciamo a meno di queste cose Possiamo evitare Che vuole quella roba Una bandiera ragazzi Ma Come mai una bandiera Ci abbiamo lì Ah non ci abbiamo Mazz Giusto Facciamoci Mazz E andiamo a prendere La bandiera Cosa c'è qua sopra Una bandiera Ah ma non serve a niente Sta bandiera Pensavo che c'era da fare La sfida Allora ragazzi Andiamo Aspettate ragazzi Perché Io Ovviamente Quando faccio i video Mi si scarica sempre il controllo Ok ci siamo Allora Prendiamo questa bella cesta Uuuuh Il combat Buono ragazzi Buono Oggi sto giocando da joystick Però nel prossimo video Giocherò da tastiera Perché Non so come che Nella sta usando Il mio manager Il mio Assistente La userò Nel prossimo video Ragazzi Pistolino Papparabam Così facciamo un po' Un confronto E mi dite voi Con cosa sono più forte E così almeno poi Gioco con quello che voi dite Che sono più forte Allora Andiamo qua Un bel medikit Sto aspettando Di trovare scudini Ma se anche io Non mi faccio lo scildone Non li trovo Perché è così Fortunite Purtroppo è così ragazzi Purtroppo Fortunite è così Qualche difetti Ce l'ha anche lui Ecco qua la cesta No vabbè ragazzi Due scudoni Buoni Ce li facciamo subito Che cosa ho trovato Ragazzi Il fucile Che cavolo Che bello Questo fucilotto Ma Perché sto facendo I balli Oh Devi farmi lo shield on Non i balli Fucile di pressione Bolt action Allora Ora andiamo Giù Andiamo giù Tra l'altro Voglio andare a vedere Dove è andato Quell'altro Nemico Perché Non so dov'è Lo sento Ma non lo vedo Ragazzi Lo sento Ma non lo vedo Dove cavolo Caspita Sarà finito Ragazzi Lamborghini Vediamo Vediamo se Ci abbiamo Un po' Di Questa è la mia Partita più Fortunata Che io faccio Della Caesar Ragazzi C'è Lamborghini Con benzina Ma io non so Cosa dirvi Ma noi ce ne andiamo Subito via Il Lamborghini Ce ne freghiamo Del giocatore Andiamo via Il Lamborghini Ragazzi Ciao Bello No Poco Turbo Poco Turbo No 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 Allora Andiamo A vedere Se c'è Qualcuno No 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 C'è tanta gente Cosa Ma che cavolo è sto robot Ragazzi Che cavolo sono ste cosi Preso 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 No 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 Che cose ti fanno danno No Ragazzi preferisco questa Sì la lambo Scappa C'è poca vita la nostra lambo ragazzi No Andiamo Prash Non si Prash Prash Dambo Non morirmi ora Lambo Andiamo 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 Attraversiamo tutto Attraversiamo Borgo Ciao Andiamo in un posto dove possiamo Prepararci un attimino Che l'unica macchina che ho Me la Distruggono queste persone Ma io non so perché No perché mi invitano ragazzi No sono andato in un punto Un po' che non mi piace La Lamborghini qua non va bene Ragazzi Ma non c'è un modo per fare la vita La macchina no eh Aspetta però c'ho la tanica Quindi se trovo un'altra Lamborghini In teoria posso cambiarla Esatto ragazzi Ma guarda voi quanto sono fortunato Però non prendo un camion Perché c'è C'è la Lamborghini Un conto se cambia una Lamborghini Ma non voglio cambiare Una Lamborghini Per un camion Cioè Qua di solito ci sono tante Lamborghini Andiamo a vedere Vediamo vediamo se c'è la Lamborghini Se c'è la Lamborghini ragazzi Se c'è la Lamborghini Tra l'altro c'è anche un distributore Andiamo a distributore A fare benzina Vediamo se c'è la Lamborghini E niente ragazzi Purtroppo mi tocca cambiare macchina E io per fare il cambio Direi di fare questa bella scelta Facciamo così Andiamo qua Facciamo benzina Io l'auto non la voglio cambiare ragazzi Quindi tengo questa Però se trovo un'altra macchina La devo abbandonare Oh ragazzi Mi sei buggato per un attimo il gioco Andiamo 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 Mi sta laggando un po' Buru 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 Bella sgomata Bella Valentino Rossi Valentino Rossi in macchina Non l'ho mai visto Vabbè Vettel Vettel Come la tira Vettel La tira in vuoto Sul retilinio Vettel Vettel sul letterino Spinge Non molla mai Non molla Continua Vai 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 Sì Ce l'abbiamo fatta Buru buru Sento dei rispari ragazzi Non È da preoccuparsi o no Secondo voi Ma noi andiamo al prossimo distributore Che facciamo un po' di rifornimento Ma poco eh Perché intanto Ce l'abbiamo già Però quando possiamo ragazzi Facciamo un po' di rifornimento Ok Raga non so se c'è qualcuno 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 Ragazzi direi di scendere Dalla mia Lamborghini E Andiamo in giro a piedi Ragazzi Provo a fare l'ultimo sforzo Con il camion Arrivare sui montagni E poi lo lascio Vai vai camion Vai 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 Spingi Sì grande camion Grande Vai spingi 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 Ultimo sforzo Sì grande Andiamo su Parco cane Che c... Ragazzi Mi sono preso Un colpo Aspettiamo qua Se c'è qualcuno Niente ragazzi Mi tocca andare sul monte Bene ma Il camion Ragazzi è il macchinone Più grosso Cioè Il macchinone Più forte Che ci sia Il carburante Eeeh No 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 Oh 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 No 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 Andiamo qua sotto Ragazzi Cambiamo Motannica Facciamo un po' di rifornimento Eh Facciamo un po' di rifornimento Ok Ok No Sì Morto No 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 C'è un altro C'è un altro C'è un altro ragazzi No no c'è un altro C'è un altro Ragazzi Ragazzi Niente Siamo arrivati Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Attivate anche la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao